Mussolini capì una cosa fondamentale, che per piacere agli italiani bisognava dare a ciascuno di essi una piccola fetta di potere col diritto di abusarne. Il fascino aveva creato una gerarchia talmente articolata e complessa che ognuno aveva dei galloni. Il capo fabbricato, il capo scelto, tutti avevano una piccola fetta di potere di cui naturalmente ognuno abusava come è nel carattere degli italiani.